Il Veneto fa squadra verso la candidatura ai giochi olimpici invernali 2026, bene Cortina, bene Ledonomiti. Anche l'altopiano di Asiago vuole fare la sua parte. Il presidente Zaia, che crede in questa operazione, sostenuta dalla nostra emittente, è pronto a spiegare e chiede a tutti un impegno pancia a terra. Su questa candidatura vuole tutti i Veneti al suo fianco. Spieghiamo innanzitutto che noi abbiamo applicato le direttive del CIO. L'altopiano di Asiago, se non è il cuore, abbiamo messo tutto quello che poteva mettere rispetto agli allenamenti che non sono pochi. Il dossier non è chiuso, questo voglio dirlo, stiamo parlando di un progetto iniziale che poi si svilupperà, potrebbe addirittura splafonare anche oltre altri confini, ma nel senso che non ci sono limiti a modificazioni. Però voglio ricordare che lo sci nordico, per fare l'abbinata nordica disciplina CIO, ci vuole lo sci nordico e il trampolino. Il trampolino di Asiago è a Gaglio, il trampolino di Gaglio si usa in estate, quindi deve essere riqualificato. È un K95, non chiedetemi che cos'è, ma è un K95 e mi dicono che per fare l'abbinata nordica ci vuole un K120, 35-40 milioni di investimenti. Il nocciolo della questione è il trampolino per lo sci nordico. Gaglio è dotato di un K95, il CIO, comitato organizzatore dei giochi, chiede un K120 e anche nel dettaglio, dopo la costruzione, come sarà riutilizzata la struttura. Sappiamo con tranquillità che un trampolino nuovo in Veneto non avrebbe, come si può dire, utenza. Prova ne sia che anche Torino, che recupera un vecchio trampolino, nel suo dossier scrive che se avesse mai il riconoscimento per le Olimpiadi, dopo le Olimpiadi demolirebbe il trampolino. Un Veneto compatto che sicuramente saprà fare quadrato, spera il governatore Zaia, che sulle Olimpiadi 2026 ci mette la faccia. Abbiamo presentato una candidatura che è strepitosa, l'hub degli sport invernali più grande d'Europa. Noi portiamo la neve come dote. Inviterei tutti a concentrarsi di meno sul tema dei tre nazionali, di provare in prospettiva a pensare che abbiamo cinque competitors a livello internazionale che si batteranno col candidato italiano. Bisogna portare chi ha più forza e Cortina Dolomiti Unesco ce l'ha.